Come dimagrire e mettere grasso addominale velocemente con la carota? Nessun esercizio, nessuna dieta. Tutti coloro che hanno combattuto con il peso in eccesso sa quanto sia difficile mettere peso, soprattutto il grasso addominale testato. Se questo è qualcosa che hai a che fare con, ti consigliamo il seguente metodo efficace di bruciare i grassi. Questo rimedio è estremamente potente e può aiutare a bruciare il grasso della bancia rapidamente. Non hai mai meno bisogno di combire la palestra o morire di fame tutto il giorno. È inoltre possibile utilizzare questo rimedio per disintossicarsi il vostro corpo in modo da continuare a guardare fino alla fine di questo video per scoprire esattamente che cosa è. Questo metodo bruciare grassi include ingredienti estremamente familiari con i vostri besti quotidiani. Nel primo basso, si sta per iniziare con le carote prima. Dopo aver schiacciato bene una carota con acqua, sbucciare la carota. Sbucciare la carota aiuterà a rimuovere molti dei pesticidi che tendono ad accumularsi nella buccia. Se le carote sono biologiche, considera la possibilità di lasciare le bucce intatte. Le bucce contengono molti benefici nutrizionali che si perdono quando vengono rimossi. Poi lo tagliate a strati sottili, componenti di carote aumentare il metabolismo meghio, che porta alla perdita di peso veloce. Avete dovresti aggiungere carote al tuo pasto quotidiano perché non è solo a basso contenuto di calorie, ma anche ricco di vitamina che aiuta a illuminare gli occhi. Successivamente si taglia 5 grammi sensero a fette. Anche la buccia di sensero è commestibile, quindi non è necessario rimuoverla. Lo sensero è estremamente utile per accelerare il processo di perdita di peso, soprattutto nella zona del ventre che è probabilmente impegnativo. Ora versate le vostre fette di sensero e le fette di carota in un frullatore con 250 ml di acqua e accendete il frullatore. Non appena si dispone di una miscela liscia di sensero e carote, versarlo in una tazza attraverso un collino e cessarlo filtrare tutti i suoi residui. E questo è un momento in cui è necessario aggiungere in testo ingrediente succo di limone. Succo di limone può promuovere la pienezza, sottenere idratazione, aumentare il metabolismo e aumentare la vendita di peso. Si taglia un quarto di limone e spremere il succo nella tazza. Se si può mangiare acido, è possibile aumentare un tesso o un mezzo di limone. L'anto contenuto d'acido nel limone è molto utile per bruciare il grasso in eccesso sull'addome. Quando si dispone di tutti gli ingerenti di bedita di peso in una tazza, mescolare tutto bene e godere la vostra bevanda di bedita di peso, per ottenere tutti i vantaggi dall'effetto saziante e dimagrante di questa bevanda. È meglio bere due cucchieri al giorno, uno al mattino prima di colazione e un altro pochi minuti prima di pranzo. Avrete una bancia sottile e corpo sottile come il vostro desiderio presto. Se si consumano costantemente questa bevanda di bedita di peso, a lungo termine, aiuta anche il sistema immunitario e di sintossicare il tuo corpo. E alla fine, se ti piace questo video, dai un buon ricerimento e condividilo con i tuoi amici. Se vorresti buon ricerche e sbagliamenti, iscritti al canale!